Vi avevamo parlato tanto di Michelle Hunziker proprio ieri 19 aprile la showgirl svizzera era stata pizzicata in atteggiamenti molto intimi con l'ex marito Tommaso Trussardi ma non si ferma qui, pare proprio che questo presunto ritorno di fiamma sia svanito nel nulla, proprio nel nulla, poiché la conduttrice è stata beccata con un altro uomo conosciuto al mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? È di Giovanni Angiolini, proprio colui che ultimamente sembra passare molto tempo con la showgirl svizzera, proprio in atteggiamenti piccanti. La Hunziker e Angiolini sono stati paparazzati proprio all'uscita del lussuoso Hotel Gallia nei pressi della stazione di Milano. I due non si sono mostrati insieme, hanno infatti provato a ingannare i paparazzi uscendo in due momenti diversi, ma l'obiettivo dei fotografi ci vede lungo e non crede alle coincidenze. Quindi inutile dire che in queste circostanze si sia trattato di un equivoco. Quindi i due sono stati insieme a Milano, erano stati anche insieme in Sardegna tempo prima. Quindi sembra che ci sia proprio ormai una frequentazione ricorrente tra i due. Se vi è piaciuta la notizia mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.